guinza ci siamo conto alla rovescia per il via al cantiere a pesero prende forma il ponte ciclo pedonale sul foglia università di urbino oltre mille studenti al primo pendei il 10 febbraio pesero celebra il giorno del ricordo calcio vispronta al tour de force dei derby di febbraio buonasera a tutti voi pubblico di rossini tv ben ritrovati al nostro appuntamento serale con l'informazione di rossini news telegiornale di giovedì 8 febbraio che apriamo questa sera occupandoci di grandi infrastrutture della nostra regione ovvero parliamo in particolare dell'incompiuta della guinza che sta per smettere di essere tale sta per cessare di essere un'incompiuta perché il 12 di febbraio partirà ufficialmente il cantiere per il ripristino di questo collegamento stradale un collegamento strategico per tutta l'italia centrale che approfondiamo oggi con questa intervista l'assessore alle infrastrutture francesco baldelli che è stato ospite nei nostri studi ci siamo conto alla rovescia agli sgoccioli per questo lunedì 12 febbraio che la regione marche l'umbre ma la stessa italia centrale ha cerchiato in rosso da tempo come data consegna dei lavori della ripristino dell'inizio del cantiere della galleria della guinza è un punto d'arrivo di un lunghissimo percorso che arriva a questo sblocco è un punto di partenza per molto di più un punto di partenza importante per collegare finalmente l'italia centrale per sbloccare dei rapporti che ricerchiamo dal 1800 se guardiamo i documenti di napoleone si parlava di della necessità di collegare il porto di livorno con quello di ancona lo facciamo 200 anni e rotti dopo ma un tassello importante nella strategia di sviluppo del centro italia mi permetta di dire qualcosa in più di tutto il sistema paese dell'unione europea perché così possiamo collegare non solo le due coste italiane quella dell'adriatico e quella del tirreno ma possiamo collegare l'oriente i balcani e la penisola eberica il corridoio atlantico attraverso le marche che ha una magnifica piattaforma logistica naturale sul mare fatta dal porto dal nostro aeroporto e dall'interporto che insieme alla roma ancona ferroviaria e la fano grosseto rendono unica la nostra regione da un punto di vista strategico per gli interessi non solo turistici ma anche commerciali del sistema paese del centro italia parliamo di una terra di confine ma tutt'altro che marginale in quelli che sono stati i programmi di questo mandato della giunta acquarolli che l'ha messo davvero tra gli obiettivi prioritari in assoluto se pensiamo a tutta la regione la fano grosseto a pieno titolo era una priorità che abbiamo perseguito che questa regione non riusciva a centrare da decenni e questa giunta è riuscita a realizzare con la consegna dei lavori che avverrà lunedì 12 a mercatello sul metauro un successo della filiera istituzionale della nostra provincia della nostra regione del centro italia che ringrazia il governo nazionale per aver accolto le richieste determinate del presidente acquarolli e della nostra regione nel sbloccare finalmente i traffici est ovest passando per la regione marche passando attraverso la fano grosseto che cosa dovrà aspettarsi il territorio di mercatello sul metauro da qui a immagino il prossimo triennio un lavoro che darà degli effetti immediatamente positivi anche all'economia del territorio perché le maestranze risiederanno proprio nel territorio di mercatello sul metauro e nei comuni confinanti al tempo stesso avremo anche alcune problematiche da dover affrontare io penso a quei concittadini mi metto nei loro panni che vedranno cantieri sui loro terreni a fianco delle loro abitazioni sicuramente un sacrificio un sacrificio grande che però è una grande opportunità per il futuro di quei territori e della nostra regione perché noi vorremmo che i nostri giovani rimanessero a lavorare ad abitare a vivere in quei territori dove sono nati lo possiamo fare solo con lo sviluppo lo possiamo fare solo con le infrastrutture ormai tutti sappiamo che le distanze non si misurano più in chilometri ma si misurano in tempi di percorrenza se non garantiamo tempi di percorrenza celeri tra i nostri e territori e strade sicuri i giovani non troveranno opportunità di lavoro le nostre imprese non potranno svilupparsi ma soprattutto non potremo attrarre nei nostri territori ulteriori interessi ad esempio quelli che potrebbero gravitare attraverso le marche collegando la nostra regione finalmente con la toscana ed ora andiamo su pesaro per mostrarvi invece un'altra opera infrastrutturale molto particolare che sta prendendo forma in queste settimane sta prendendo forma il ponte ciclopedonale sul foglia una grande opera infrastrutturale che punterà sulla mobilità dolce costruendo un inedito collegamento diretto fra il quartiere pesarese della tombaccia e il centro storico passando per l'area di via dell'acquedotto e della stazione ferroviaria ponte in costruzione che vedete alle mie spalle che andrà ad unire l'area in cui ci troviamo quella del parco 25 aprile spazio verde di fatto limitrofo al miralfiore è la stessa via dell'acquedotto col quartiere della tombaccia in particolare con la zona di via del carso il comune ha infatti affidato il cantiere alla ditta nasoni di fano che sta realizzando un ponte con un investimento di 3 milioni di euro ottenuto attraverso fondi delle bando periferie che ha già contribuito a trasformare un'area ex degradata come quella di via dell'acquedotto che negli anni ha visto pezzo dopo pezzo nascere un teatro il nuovo bocciodromo la pista da skateboard e quella da pump track il ponte che sarà affiancato all'attuale viadotto ferroviario sarà dunque attraversabile da pedoni ciclisti e da mezzi d'emergenza si tratta di una infrastruttura che ha cominciato a prendere forma già nelle 2022 e poi dopo diversi ritardi ora il cantiere procede spedito anche con la prospettiva di poter arrivare ad una inaugurazione nel prossimo mese di settembre c'è stato un incidente stradale frontale questa mattina sulla strada statale adriateca nella parte nord di fano in direzione pesaro dove alle 6.45 si sono scontrate due autovetture una bmw condotta da un 53enne di san giovanni in maregnano che ha invaso la corsia opposta andando in collisione con un'audi guidata da un 67enne di jesi con al fianco la moglie poi trasportata al pronto soccorso di fano la bmw è finita nel fossato a lato della carreggiata e l'incidente ha creato disagio al traffico per la messa in sicurezza della strada cambiamo argomento e parliamo ora di università in particolare del collegamento fra scuole superiori e l'università di urbino oggi era infatti in programma la prima giornata di università aperta il cosiddetto open day di orientamento all'ateneo al quale hanno partecipato oltre mille studenti amiche amici di rossini tv siamo nel bel mezzo delle giornate di università aperta 2024 siamo a urbino di fronte al polo didattico volponi dove fra un po si terrà la prima delle due giornate in presenza nelle quali gli studenti degli istituti di scuola secondaria di secondo grado potranno scoprire tutto quello che li aspetta quando decideranno se decideranno di frequentare questa università oggi sono 1100 studenti un numero uno dei più alti che abbiamo avuto negli ultimi anni quindi l'augurio veramente di far capire loro il valore di studiare ad urbino sia per quello che riusciamo a dare noi come docenti ma anche per i servizi che possono trovare e per il contesto diciamo cittadino anche che permette loro di vivere al di là delle aule universitarie una delle giornate principali di accoglienza delle future matricole degli studenti delle scuole superiori che decidono di intraprendere questo percorso noi come ufficio orientamento organizziamo e partecipiamo a diverse manifestazioni ma questa è quella che proprio la quale dedichiamo più tempo e perché appunto diamo la possibilità agli studenti di vivere una giornata full immersion all'interno dell'università che organizziamo in questa mattinata anche un giro di tutte le sedi didattiche con dei nostri collaboratori che sono ragazzi tutor e quindi vedere proprio anche la realtà toccare con mano le sedi le facoltà e anche la città perché in questo tour passeranno anche per il palazzo ducale quindi vedranno anche diciamo anche i palazzi principali e i musei della città e quindi una grande organizzazione che ormai sono anni che facciamo ormai questa è la ventitresima edizione questa è un momento in cui gli studenti iniziano a programmare ecco poi avremo altre occasioni di orientamento dopo università aperta gli open day che si protraranno per tutta la durata dell'estate anche l'autunno e poi stiamo andando anche nelle scuole agli open day che allestiscono le scuole stesse stiamo facendo dei corsi di orientamento con i finanziamenti PNRR nelle scuole quindi abbiamo un contatto diretto con le scuole e con gli studenti e di questo siamo molto orgogliosi perché veramente pensiamo di poter fornire un contributo importante gli studenti giovani hanno bisogno di guide io credo guide che non dicono loro che cosa devono fare ma che forniscono gli stimoli adeguati perché appunto come dicevo prima nel mio saluto possano programmare inserire nel loro progetto di vita l'università l'esperienza l'esperienza diretta è l'aspetto qualificante e non soltanto come studio dicevo ma anche proprio come tirocini eventuali fin dell'inserimento nel mondo del lavoro quindi c'è l'opportunità di svolgere un tirocino all'estero per aprirsi non soltanto allo studio ma anche alle opportunità di lavoro sempre più internazionali Urbino crede molto in questo e facciamo veramente tutto il possibile per offrire questa opportunità in modo concreto La ricostruzione storica dell'esodo Giuliano Dalmata e delle vicende del confine orientale italiano saranno al centro delle celebrazioni del giorno del ricordo che si terrà a Pesaro sabato 10 febbraio alle 10.30 nelle salone metaorense di Palazzo Ducale sede della prefettura una mattinata che sarà dedicata al ricordo dei massacri delle foibe e dell'esilio attraverso il contributo degli studenti delle scuole della città e di tante istituzioni politiche e amministrative della provincia E continuano i nostri approfondimenti dedicati ai tanti progetti di Pesaro Capitale della Cultura 2024 Dopo i dossier Oceano Adriatico e Botanica partecipata ora parte un nuovo approfondimento trasversale all'entroterra provinciale si intitola Blu il colore della Cuccagna Vediamo di cosa si tratta Pesaro 2024 presenta un nuovo progetto di dossier che prende il via nell'anno di Capitale della Cultura Lunedì 12 febbraio a Orbino parte infatti Blu il colore della Cuccagna un progetto trasversale costruito attorno al tema del Blu con riferimento alla pianta tipica dell'area conosciuta come Guado Collocato nella sezione della natura operosa della cultura il progetto vuole esaltare il valore di questa tinta sottolineando nel suo profondo legame storico con l'ambito dell'arte e della produzione artigianale del Monte Feltro Si parte con un convegno che va ad analizzare storicamente quello che è stato il Guado per tentare di immaginarsi una visione futura Il convegno è organizzato dal Comune d'Urbino eseguito da Alessandra Ubaldi è rivolto agli istituti di alta formazione artistica che in qualche modo sono protagonisti nel nostro territorio da quel momento in poi il progetto si dipana come se fossero una serie di cerchi concentrici su tutta la zona del Monte Feltro per andare poi a toccare la capitale Pesaro per l'appunto durante l'estate La tematica che lega è il blu ma è un blu che in qualche modo esce dal Guado parte dal Guado per arrivare al blu del cielo o a un blu oltremare tocca profondamente le questioni ambientali l'esplosione è supergola perché in qualche modo andiamo a lavorare sulle tinte, le tinte naturali quindi ci dobbiamo ricordare quello che è accaduto nel 2022 al quartiere dei Tintori con l'alluvione e il dissesto idrogeologico che in qualche modo per noi diventa metafora di tutto il cammino Focus principale lo avrà la grande mostra che inauguriamo al Museo dei Bronzi Dorati curata da Leonardo Regano dove avremo presenti 40 artisti di fama nazionale e internazionale con grandi nomi da Arachi, Paolini, Cristò piuttosto che Boetti fino ad artisti del territorio ma grandi artisti del territorio che in qualche modo hanno deciso di collaborare a questo progetto Il cuore principale a Pergola di tutti gli accadimenti sarà ovviamente il Museo dei Bronzi Dorati nel quale abbiamo l'onore di custodire appunto questo importante reperto, i nostri bronzi dorati e quindi l'oro dei bronzi sarà durante questo 2024 unito al blu del Guado e questo filo blu che unirà la città di Pergola con tutti gli altri comuni del territorio sarà sicuramente un'occasione importante per lavorare insieme ed esprimere al meglio tutto quello che il nostro territorio vada a rappresentare e il Guado che è al centro del tema di questo progetto è una storia in qualche maniera che unisce tutta la nostra provincia perché era una pianta tintoria che ha fatto la fortuna di molti territori dell'entroterra nel periodo medievale era una pianta molto ricca e quindi molto costoso il colore che ne ricavava perché dava il colore blu che era molto prezioso e poteva essere usato solamente dai nobili da qui il nome dell'oro blu del Montefeltro quindi la declinazione di blu e oro per il fatto che Federico Montefeltro fu il primo a coniare proprio questo nome chiamandolo oro blu del Montefeltro per la ricchezza che dava e quindi questa è una storia che parte da tanto tempo, parliamo dell'alto medioevo e arriva fino ai nostri giorni con l'arte contemporanea che il comune di Pergola, Casa Spongi sono riusciti benissimo a coniugare in un linguaggio che possa intercettare tutti per poter far conoscere questa storia che è veramente unica, più unica che rara diciamo Ancora cultura ma in questo caso vi proponiamo un approfondimento divulgativo andato in scena ieri sera all'hotel Alexander Museum Palace di Pesaro che ha ospitato il filosofo Diego Fusaro in uno degli appuntamenti organizzati dall'Associazione Culturale Storia e Nazione Pesaro è sempre un luogo molto accogliente e attento alle istanze culturali il tema della nostra serata è l'evaporazione del cristianesimo che si sta verificando nel quadro della civiltà dei mercati, del nichilismo e della tecnica evaporazione che dal 2013 ha subito un'accelerazione per via delle posizioni di Bergoglio che anziché contrastare questa aggressione che la civiltà della tecnica sferra al cristianesimo resistenza operata ad esempio da Ratzinger Bergoglio è partecipe di questa stessa evaporazione, l'accelera e la favorisce questa è la novità degna di nota della quale ci occupiamo questa sera è stata una felice riproposizione del filosofo Diego Fusaro che oggi affronterà un tema epocale, ciclopico per certi aspetti perché attiene anche ai destini della civiltà occidentale la fine del cristianesimo che può essere ineluttabile o meno ma che comunque interessa sia i fedeli, sia gli agnostici, sia gli atei perché è un dato fondamentale della nostra civiltà occidentale troveremo risposte in questa forma di conferenza e intervista la tesi di fondo è quella per cui, per semplificare un poco il capitalismo globalizzato dei mercati oggi non solo non ha più bisogno del cristianesimo ma ha bisogno di liquidarlo da che il cristianesimo è incompatibile con la sua logica gli ultimi nostri eventi sono stati sul Cesare Mori abbiamo fatto una conferenza su Cesare Mori e un'altra molto importante su Sant'Erenzio e l'ultima che abbiamo fatto abbiamo aperto una mostra sul pittore e autista Zappini e l'ultima nostra cosa per aprire l'anno 2024 adesso ce ne saranno in porto altri che vedremo, visto che Pesaro è capitale della cultura 2024 storia in azione naturalmente ha un suo programma e lo tirerà fuori presto Pesaro capitale della cultura protagonista anche al festival di Sanremo ieri infatti la delegazione pesarese ha fatto tappa Villa Ormond e a casa si ha insieme a Rai Radio 2 sul green carpet dell'Ariston portando a Sanremo il programma La natura della cultura di Pesaro 2024 nel villaggio del festival si sono susseguiti convegni, masterclass e concerti dal balcone guidati dai maestri del Rossini Opera Festival e in occasione del Carnevale di Fada è invece pronto anche il contributo dell'orchestra sinfonica Rossini che domani venerdì 9 febbraio alle ore 21 vedrà al Teatro della Fortuna l'ormai tradizionale concerto di Carnevale che avrà anche un'anteprima per il pubblico delle scuole durante la stessa mattinata alle 9.30 e alle 11.00 guidare la Rossini sarà la bacchetta di Beatrice Venezzi tra le poche direttrici d'orchestra donna ad essere invitate sul podio dei Cinque Continenti ed ora passiamo a cinema e teatro in allegria quello delle San Costanzo Show che dopo il grande successo delle precedenti proiezioni domani 9 febbraio alle 21.15 ripropone al cinema Politeama di Fano il film Non aprite quella sporta giallo comico dello scorso anno realizzato dallo stesso San Costanzo Show e invece dopo i recenti sold out nuove date anche per gli classici Odissea dei Promessi Sposi in una notte di mezza estate che sarà riproposto giovedì 15 febbraio a San Lorenzo in campo lunedì 19 febbraio a Pesaro e mercoledì 21 febbraio a Fano ed ora lo sport la procura federale ha aperto un'indagine sulle parole pronunciate Dario Costa nel corso della conferenza stampa di ieri 7 febbraio nella quale ha annunciato che lascerà la presidenza della VL al termine della stagione Nell'occasione Costa ha attaccato gli arbitri che hanno diretto la gara di domenica Scafati e oggi attraverso una nota ufficiale ha rivolto le sue scuse agli stessi arbitri Sain e Bettini precisando che l'intento non era in alcun modo quello di offenderli e che nell'intensità del momento ha pronunciato espressioni che non fanno parte del suo stile l'intenzione ha detto Costa era soltanto quella di rendere noto di non aver gradito il metodo di giudizia arbitrale come già manifestato al termine della partita e dal basket passiamo al calcio perché sabato sera c'è l'atteso derby tra Fermana e Vispesaro e sarà per la VES il primo i tre scontri corregionali a stretto giro di posta in questo mese di febbraio uno snodo particolarmente delicato nella lotta salvezza Sarà il sabato sera di Fermana e Vispesaro ad aprire un tour de force di derby marchigiani che caratterizzeranno un febbraio di fuoco per la VES che affronterà a stretto giro di posta i Canarini, l'Ancona, la Re Canatese oltre che il Pescara la mente di Mister Banchieri però proiettata solo al match del Recchioni dopo aver metabolizzato il K.O. col Gubbio che ha interrotto la maxistrescia positiva dei Biancorossi di nove turni utili Dopo nove risultati utili consecutivi abbiamo fatto questa partita dove chiaramente negli episodi e nelle situazioni di gioco dovevamo essere più attenti, dovevamo essere più cattivi, più determinati non lo siamo stati e quindi si volta pagina e come ho detto già dopo la partita si pensa già al derby che è una partita straordinariamente importante È un derby, c'è una vista ai margini dei play-out e c'è una fermana ultima ma quanto mai battagliera insomma difficile reputarlo una partita come le altre È un derby, è un derby al quale teniamo tantissimo noi tiene tantissimo la nostra tifoseria, la nostra città, il nostro club quindi per noi un derby ha già una valenza molto 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 importante e particolare in più mette in paglio tre punti e quindi dobbiamo sapere che queste partite come abbiamo fatto con Re Canatese, Ancona, Fermana all'andata vanno giocate in un'altra maniera ecco perché sono partite emozionali, sono partite dove la posta in paglio è molto più alta di quanto dicano i tre punti La classifica va guardata poco, io come ho sempre detto la classifica la guarderemo chissà verso metà marzo verso metà marzo è il momento di guardare la classifica adesso onestamente non credo ci siano molte differenze fra la Fermana e le altre squadre quindi noi abbiamo molto rispetto della Fermana come delle altre squadre però come sempre cercheremo, vista l'importanza, come ho già detto, di una partita diversa dalle altre perché i derby sono diversi dalle altre partite quindi c'è l'emozionalità del derby che è importantissimo per tutti, per tutti noi e poi ci sono i tre punti in paglio che sono altrettanto importanti quindi giocheremo come sempre per fare risultato rispettando molto la Fermana ma come rispettiamo tutte le altre squadre È una vis che arriva fermo con uno sguardo al campo e l'altro all'infermeria C'è ancora Denis Tonucci che è in fase riabilitativa c'è Jack De Vrij che ha questo problema al piede e anche lui sta riabilitando c'è Joel che si sta allenando e si sta riatletizzando da Pozzo che è rientrato e poi in settimana ha preso un colpo Pucciarelli dobbiamo valutarlo fino alla fine ma questo vedremo tra oggi e domani Basket e calcio dunque in conclusione del nostro telegiornale Rossini News Sport e in particolare basket anche a contrassegnare la nostra prima serata come ogni giovedì è infatti la serata di insieme a Canestro il focus sulla Carpegna Prosciutto Basket Peso ottenuto dalla nostra Elisabetta Ferri che questa sera avrà come ospiti l'ultimo arrivato di Casa VL Marcus McDuffie insieme al giornalista e opinionista Raffaele Vitali e come sempre la possibilità di interazione in diretta con voi tifosi telespettatori al numero whatsapp dedicato 370-366-7210 e poi l'altra diretta è quella consueta del mattino con Buongiorno Rossini la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali che vi tiene compagnia dal lunedì al sabato come sempre alle 7.20 e dunque vi aspetto domattina con la rassegna mentre si conclude qui questo spazio informativo serale di Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata con i programmi di Rossini TV